La settimana da capitale della cultura di Cagli appena conclusa lascia in eredità al dossier di Pesaro 2024 la mostra personale di Giovanni Termini come la metti sta visitabile fino al 30 giugno negli affascinanti spazi del cinquecentesco palazzo Tiranni Castracane. Si tratta di una mostra che presenta una selezione di opere scultore in un percorso espositivo che segue le coordinate che orientano il programma di Pesaro 2024 ovvero il rapporto tra arte natura e tecnologia. Il lavoro di Giovanni Termini in qualche modo segue le tre direttrici che sono state caratterizzanti del dossier di Pesaro arte natura tecnologia il lavoro di Giovanni Termini uno scultore che è stato molto vicino negli anni alla grande figura di Eliseo Mattiacci uno dei più grandi scultori del novecento italiano originario di Cagli segue esattamente queste linee. Il lavoro di Giovanni Termini è un lavoro che in qualche modo invoca un'idea di arte di natura e di tecnologia un rapporto tra questi tre elementi che sono molto forti e che ritroviamo nella mostra ma soprattutto si crea un dialogo straordinario tra questo palazzo che in disuso da qualche anno mostra i segni del tempo mostra le sue strutture esattamente come il lavoro di Giovanni Termini mette a nudo la struttura delle cose invoca questa idea del lavoro del cantiere del palinzesto della trasformazione dunque è veramente un'esperienza straordinaria questa mostra in questo palazzo in questo momento così importante per il territorio che ci fa sentire tutta la potenza e la forza attrattiva della cultura nelle marche. Siciliano ma cagliese d'adozione Giovanni Termini si colloca in una traiettoria della scultura contemporanea italiana che parte da Lucio Fontana fino all'esperienza dell'arte povera. Le sue creazioni sono permeate da un vitalismo materico fondato sul reimpiego e la reelaborazione di oggetti prelevati dalla realtà configurandosi come manufatti che rivendicano esplicitamente una tecnologia di esecuzione il tutto in un rapporto affettivo ed emotivo con la realtà di Cagli. È uno di quei luoghi che mi ha sempre affascinato in più nel 2001 Eliseo Mattiacci mi chiese un'opera per la collezione d'arte contemporanea al Torrione che ospita quindi anche nomi importanti come Cunelli, come Paolini, come Paolo Icaro. Sono tutte opere che più o meno partono dal 2015 a parte l'ultima che è l'opera che porta il titolo della mostra come la Mettistà ed è un'opera invece che ho fatto recentemente grazie alla collaborazione con l'azienda di filatura Cariagi per il Cascime che mi hanno sostenuto e sopportato per questo progetto chiaramente insieme al Comune di Cagli e a Pesaro 24. La filatura Cariagi è orgogliosa di aver sostenuto e supportato l'artista Giovanni Termini in una mostra di arte contemporanea. Giovanni Termini attraverso la scelta di alcuni materiali dell'azienda ha realizzato un'opera di arte moderna dedicata anche alla filatura e al territorio di Cagli. Pertanto lo ringraziamo e siamo veramente contenti di questa iniziativa.